Il Governo per le parti non sorbite, su cui il Governo ha espresso il parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo? Amendola. Basilio. Provi a votare. La votazione è chiusa. La Camera approva. Do letture dell'ordine del giorno nella seduta di venerdì 20 novembre, ore 9.30. Discussione generale del disegno di legge costituzionale. Recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi all'ora. Colleghi, per favore di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.